Sarà processato con giudizio immediato il 35enne ganese richiedente asilo che la scorsa estate aveva aggredito due coppietta al prato di Arezzo. L'uomo in entrambi i casi avrebbe prima colpito con calce e pugni i ragazzi per poi tentare di usare violenza alle giovani fidanzate. Il 35enne si trova già in carcere e venne infatti prelevato alla Caritas di Arezzo dove era ospite. Adesso il PM Angela Masiello ha chiuso le indagini. L'uomo dovrà rispondere di lesioni e tentate violenze sessuali aggravate dalle condizioni di minor difesa delle vittime. I due episodi violenti risalgono uno al 22 luglio e l'altro al 4 agosto. A questi se ne aggiungerebbe un terzo confessato dallo stesso ganese dopo l'arresto ma non denunciato dalle vittime. Il processo è stato fissato per il prossimo 14 novembre. La difesa dell'uomo chiederà di avvalersi del rito abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica per verificare le condizioni di salute mentale del 35enne.